Che freddo! Fa proprio freddo eh! Io sono troppo freddo eh! Ma sono cese i riscaldamenti? Io accendo pure la stufetta elettrica eh! Oh comunque un freddo così non lo fa da dieci anni eh! Che freddo! Mi si sono congelate le ossa! Amo che mi fai una tisana bollente così mi riscaldo? Freddo che freddo che freddo! Io mi metto la termocoperta al massimo perché ho troppo freddo! Amo che mi fai una borsa dell'acqua calda? No l'anno scorso non ha fatto così freddo eh! Amo io vado che le altre mi stanno aspettando giù! Ma dove vai vestita così che fuori ci stanno tre gradi? Ma vai il solito esagerato!